L'ultimo grave episodio in ordine di tempo si è verificato solo ieri mattina. Una donna, mentre passeggiava nella zona della pineta di Andri, è stata aggredita da un branco formato da almeno quattro cani randagi che stazionano ormai da diverso tempo in quella zona. L'aggressione senza un motivo preciso, come ci racconta la stessa vittima, che probabilmente ha avuto solo il demerito di transitare in un pezzo di territorio considerato del branco. Le urla e la prontezza della donna ha permesso di riportare solo alcuni graffi, ma ben più grave è stata invece la situazione verificatasi qualche giorno fa per un ragazzo adolescente che nel tentativo di sfuggire all'aggressione dei cani è rimasto anche ferito. Nel pomeriggio di ieri, mentre realizzavamo proprio queste immagini, due donne sono state invece rincorse dallo stesso branco nel momento in cui hanno attraversato quello che considerano il loro spazio. È un problema che si ripete che in questo momento assume un tono decisamente più importante ed urgente in città ad Andria. Senerazioni di aggressioni o tentate aggressioni si registrano spessissimo nell'ultimo periodo, anche in via Corato, nella centrale Piazza Ruggero Settimo e nella periferica Via Trani. Di randagismo si è sostanzialmente smesso di parlare già da un po' di tempo, anche se oggi appare uno dei problemi davvero urgenti di cui parlare. Poche le risorse a disposizione, pochi i posti nei canili convenzionati con il comune di Andria, tanta l'emergenza da affrontare al più presto. La donna che ha subito l'aggressione nella giornata di ieri ha denunciato alla polizia locale l'accaduto che a sua volta ha informato il servizio veterinario dell'Aslo BT per l'eventuale accalappiatura dei cani. La speranza è che si faccia in fretta sia per tutelare i cittadini ma anche e soprattutto per preservare gli stessi cani.